Uno dei vari luoghi comuni che sentiamo ripetere più spesso quando si parla di Giappone è di come le città siano mediamente più pulite di quelle europee, nonostante non ci siano quasi mai dei cestini in giro. Per qualche motivo questo fatto mi ha particolarmente incuriosito, dato che trovavo molto strano che in una metropoli come Tokyo fosse stato deciso di non mettere cestini per le strade, e ho scoperto che dietro questa apparentemente inutile curiosità si cela uno degli eventi che ha più segnato il Giappone, un attacco terroristico da parte della setta religiosa Oum, che causò 14 morti e circa 6400 feriti, e che ha portato il governo giapponese a riflettere sulla sicurezza delle città, che fino a quel momento veniva data quasi per scontata. È il 20 marzo 1995, un giorno che si trova a cavallo di due festivi, tuttavia le metro sono comunque piene di persone che non hanno potuto fare ponte e devono andare a lavorare. Confusi in mezzo alla folla ci sono 5 persone che rilasciano uno strano gas tossico nell'aria. L'attentato è stato eseguito in 5 treni diversi, da parte di 5 coppie di membri della setta religiosa Oum. Il modus operandi sarà sempre lo stesso, uno dei due farà da autista, l'altro da esecutore materiale. La notte prima dell'attentato i 5 esecutori vengono convocati al quartier generale di Oum, il Satiam numero 7, che si trova sul monte Fuji. Qua riceveranno dal capo della setta, Asahara Shoko, l'ordine di spargere un gas chiamato sarin all'interno della metropolitana. Per prepararsi all'attentato, quella stessa notte, partecipano ad un'esercitazione guidata da Murai Hideo, uno dei leader di Oum. Ai 5 vengono date due sacche piene di acqua a testa, della stessa dimensione di quelle piene di sarin che avrebbero dovuto utilizzare la mattina seguente nell'attentato. L'esercitazione consisteva nel colpire quelle sacche con degli ombrelli, le cui punte erano state appositamente affilate per questo scopo, in modo da farne uscire il sarin liquido contenuto al loro interno che sarebbe poi evaporato. Durante questa esercitazione, gli adepti si mostrano quasi divertiti nel compiere questo gesto, come se fosse un gioco. L'unico che però li guarda con uno sguardo un po' annoiato è Hayashi Ikuo, che perforerà sì le sacche ma senza metterci troppo impegno. Dopo l'esercitazione arriva il momento di consegnare le sacche contenenti il sarin vero e proprio, però ne avanza una, piena solo metà. Murai, per mettere alla prova i 5 attentatori, chiede a loro chi se ne voglia occupare e, come Murai stesso aveva immaginato, si offre volontari un certo Hayashi Yasuo, un uomo molto determinato e devoto al Guru Hazahara. E sarà questa sua grande devozione a portarlo nell'attentato con i suoi 1,3 litri di sarin in totale a causare il numero massimo di morti e intossicati. Un numero molto più alto rispetto a quello degli altri 4, tanto da fargli guadagnare il soprannome di La Macchina per Uccidere. Sulla linea C-Yoda è stata incaricata una sola squadra per spargere il sarin nella metropolitana. Hayashi Ikuo, colui che la notte prima, durante l'esercitazione, guardava gli altri con distacco, viene accompagnato da Nihimito Momitsu, che gli farà d'autista. Hayashi, al momento dell'attentato, aveva 48 anni, era quindi abbastanza anziano rispetto alla media degli altri adepti. Prima di entrare a far parte di Oum, era un medico, proprio come suo padre, laureato alla Keio University di Tokyo. All'ospedale di Keio era specializzato in cardiologia vascolare, e in seguito divenne direttore dell'istituto di medicina circolatoria al sanatorio nazionale Tokaimura. Era quindi un uomo talentuoso e con una carriera di un certo livello, ma per prendere i voti per Oum ha dovuto lasciare tutto quello che aveva ottenuto prima in vita. La sua famiglia, il suo lavoro e anche tutti i suoi averi, che, di regola, gli adepti devono consegnare alla setta quando decidono di entrare a farne parte. Visto che era un medico, la sera precedente agli attentati diede agli altri quattro esecutori una siringa, contenente solfato di atropina, che avrebbero dovuto iniettarsi subito in caso avessero dovuto riscontrare qualche sintomo da intossicazione da gas sarin. La mattina stessa, prima di raggiungere la stazione di Sendagi, si ferma in un supermercato per comprare dei guanti. Nel frattempo, il suo autista, Nimi, compra un paio di giornali in modo da poterne utilizzare i fogli per coprire le buste di plastica contenenti il sarin. Comprerà due giornali diversi, il Seiko Shinbun e la Kahata. Il Seiko Shinbun era un giornale edito dalla Soka Gakkai, un'associazione bundista notoriamente in contrasto con Oum, motivo per il quale i due decidono, per dare meno nell'occhio, di utilizzare i fogli dell'altro giornale, la Kahata. Per precauzione, prima di salire sulla prima carrozza del treno, Hayashi indossa una mascherina chirurgica, che non dà troppo nell'occhio visto che in Giappone è d'uso comune portarla in metropolitana. Durante il viaggio, però, cominciò ad avere qualche ripensamento. Infatti, vedendo donne e bambini attorno a lui, si accorge come, spargendo il sarin, sicuramente questi sarebbero morti. Tuttavia, la dottrina di Oum gli ha insegnato a non cedere alle proprie emozioni. E dunque, Hayashi si convince di come questo gesto sia soltanto una prova necessaria per raggiungere la salvezza. E colpisce così, alle ore 8 e 10, la prima sacca, prima di arrivare alla stazione di Shino-Chanomizu. All'inizio trova un po' di difficoltà nel cercare di bucarla, forse anche perché non si era esercitato bene nella sera prima. Dunque cerca di ripetere più volte il gesto con entrambe le buste. Alla fine, soltanto una delle due si romperà e il sarin comincia a uscire velocemente, evaporando e diffondendosi in tutta l'aria intorno. Le due sacche verranno rimosse dal treno soltanto quattro fermate dopo, alla stazione di Kasumigaseki da un dipendente della metro di nome Takahashi. Da lì il treno procede ancora fino alla stazione di Gokai-Jidome, dove viene soppresso definitivamente. Sul treno, subito dopo l'apertura delle sacche, le persone hanno cominciato a intossicarsi, manifestando col tempo sintomi sempre più pesanti. Tant'è che a un certo punto nella carrozza tutti cominciano a sentirsi male. Il sarin gli ha infatti bloccato il respiro e causato una tosse molto violenta. Molti non riuscivano nemmeno a stare in piedi, alcuni cercano di aggrapparsi alle sbarre del treno, mentre altri non riescono a fare nemmeno quello e accasciano a terra. Arrivati alla stazione di Kasumigaseki, alcuni passeggeri scendono per avvertire il controllore di quello che stava succedendo. Ma la verità è che nessuno aveva capito bene la situazione. Qua Takahashi, un impiegato della metro che stava finendo il suo turno proprio in quel momento, sposta le sacche dalla metropolitana e asciuga il pavimento bagnato di sarin con dei fogli di giornale. L'esposizione così ravvicinata al sarin lo face svenire in pochissimo tempo, facendolo accasciare sul marciapiede della metro dove verrà raccolto da un suo collega più tardi. Stiamo parlando di Yuasa Masaru, il quale lo prende su una barella e lo porta verso l'uscita dove immaginava sarebbe stato più probabile l'arrivo dell'ambulanza. Ricordiamo che le stazioni della metro giapponesi spesso hanno molte uscite, anche abbastanza distanti fra di loro. Le sacche contenenti del sarin, che erano state portate via dal treno, vengono intanto spostate nell'ufficio dei dipendenti della metro, dove erano stati però anche accolti quelli che si erano sentiti male, peggiorando così, chiaramente involontariamente, la loro situazione, oltre che quella dei vari dipendenti presenti nella stanza che non avevano mostrato ancora segni di intossicazione. Nella stazione suona quindi l'allarme e i passeggeri si spostano a passo sostenuto verso l'uscita. Chi ha risalito le scalinate di quella stazione quel giorno ha potuto senz'altro vivere un incubo ad occhi aperti. Ovunque c'erano persone che stavano male, c'era chi soffocava, chi vomitava, chi rimaneva accasciato a terra e chi espelleva la schiuma dalla bocca. Oppure c'erano tre persone sdraiate a terra con un cucchiaino infilato in bocca, probabilmente messo da qualcuno in modo che non si ingoiassero la lingua. Inoltre tutti quanti lacrimavano, e molti perdevano liquidi dal naso. Danni alla vista e dolore agli occhi sono altri sintomi che hanno riscontrato quasi tutti quelli che erano presenti. C'era chi vedeva con un filtro color seppia, c'era chi non riusciva a mettere bene a fuoco le cose, oppure chi vedeva tutto più oscurato. Un po' come se avessero spento le luci, questa è la descrizione delle vittime. E la situazione si fa ancora più drammatica dal momento che le ambulanze che avevano chiamato non arrivavano, probabilmente perché erano già tutte occupate in un'altra stazione dove era stato svolto l'attentato. E quindi i feriti della linea Shi Yoda sono stati gli ultimi a ricevere i soccorsi, tant'è che molti hanno dovuto chiamare un taxi per andare al pronto soccorso. Gli unici ad essere arrivati in tempo però erano i cameraman della TeleTV di Tokyo, che raggiunsero la stazione con un pulmino. L'autista quindi, dopo qualche minuto resosi conto della situazione, ha consente ad accompagnare alcuni dei feriti verso il pronto soccorso. Carica con sé due dipendenti della ferrovia, il signor Takahashi, che è colui che aveva spostato le buste contenenti il sarin fuori dal treno, e il signor Ohori. Guidano quindi a tutta velocità per le strade di Tokyo, mentre sventolano un fazzoletto rosso fuori dalla finestrino per far capire che si trattasse di un'emergenza. Tuttavia, anche una volta arrivati al pronto soccorso, per Takahashi come per tutti gli altri, la situazione resta ancora critica. Gli ospedali sono infatti tutti sovraffollati, i medici non hanno la minima idea di come curare i pazienti, e soprattutto sottovalutano molto la situazione. A causa di ciò molti pazienti malati furono dimessi subito, altri ricevettero le cure in ritardo, come il signor Takahata, che per questo motivo morì. I responsabili dell'attacco sul treno A777 furono Hirose Kenichi e il suo autista Kitamura Koichi. Anche in questo caso Hirose, come Ayashi, era una persona ben istruita, aveva infatti frequentato il liceo Waseda e si era laureato in ingegneria con il massimo dei voti nell'omonima università, specializzandosi poi in fisica applicata e conseguendo un dottorato nel 1989, lo stesso anno in cui si affiliò ad Oum. Nella setta faceva parte del cosiddetto Ministero della Scienza e della Tecnologia e lavorò nel progetto di produzione di armi leggere per Oum. Nonostante ciò era la persona forse più ansiosa durante l'attentato, al punto che stava per far saltare il suo piano. Tra l'altro è curioso vedere come i protagonisti di un attentato da parte di una setta religiosa siano delle persone di scienza e ben istruite. Kitamura sale a Ikebukuro su un treno della linea Marunouchi e si posiziona sulla seconda carrozza. Durante il viaggio apre un ripensamento e scende un attimo alla stazione di Miyogadani, pensando di annullare il tutto e andarsene, riflettendo sulle conseguenze disastrose che avrebbe avuto il suo gesto. Dichiererà in seguito di come si sentisse invidioso delle persone che potevano scendere dalla metro quando volevano. Tuttavia lui si sentiva oppresso e costretto a intraprendere quella strada. Risale sul treno, questa volta nella terza carrozza, e ripete nella sua mente i mantra di Oum, in modo da darsi la forza. Arrivato alla stazione di Oceanumizu colpisce le due sacche così forte da piegare la punta del suo ombrello. Esce dalla stazione e prima di salire nella macchina del suo autista pulisce con una bottiglietta d'acqua la punta del suo ombrello, che metterà nel portabagagli in modo da evitare l'intossicazione. Tuttavia rimane comunque intossicato, ed è costretto a iniettarsi la siringa che gli aveva dato il giorno prima a Yashi. In questo attacco venne versato quasi un litro di sarin. Ci fu un morto e ben 358 intossicati gravi. Tant'è che il treno proseguirà ancora e andrà fino al capolinea Ogikubo, dove un impiegato della stazione pulirà il treno, e in particolare il pavimento che era bagnato di sarin. Non solo, a questo punto il treno viene fatto ulteriormente ripartire dal capolinea, solo che questa volta, visto che molte persone ricominciano a sentirsi male, viene fermato dopo giusto due fermate. L'attacco sul treno B701, che invece andava nella direzione opposta, è stato eseguito da Yokoyama Masato, con la complicità di Tonnozaki Kiyotaka, che gli ha fatto da autista. Anche Yokoyama era laureato in fisica applicata, soltanto che non sappiamo molto della sua vita privata, visto che pare fosse una persona molto riservata, anche con gli stessi membri di OUM. Anche lui faceva parte del Ministero della Scienza e della Tecnologia, del quale era sottosegretario, e insieme ai Rose ha lavorato la produzione di armi semiautomatiche e leggere. Lui salirà alla fermata di Shinjuku alle ore 7.39, e quando il treno sta per raggiungere la fermata di Yotsuya colpisce più volte le buste di sarin. Riuscì però soltanto a bucare una busta, dalla quale il sarin esce particolarmente lentamente, motivo per il quale i passeggeri cominciarono a sentirsi male un po' in ritardo. Infatti il treno arrivò fino al capolinea, alla stazione di Kebukuro, verso le ore 8.30, e ripartì in direzione opposta, verso Shinjuku. È solo al momento della ripartenza del treno che i passeggeri cominciano a sentirsi male. Uno di loro infatti scenderà alla fermata di Gorakuen, nella quale segnalerà agli addetti della metro la presenza di un pacco sospetto, che sappiamo essere chiaramente una delle buste di sarin che verrà rimosso alla stazione seguente. Adesso, nonostante a questo punto la maggior parte delle persone che hanno iniziato a sentirsi male escono dal treno, lasciandolo praticamente vuoto. Questo continua ad avanzare fino al capolinea di Shinjuku. E non solo, da lì è ripartito un'altra volta ancora ed è stato soppresso soltanto alle ore 9.27, alla fermata di Kokaigi Jidomae. Questo vuol dire che il treno ha viaggiato per ben un'ora e quaranta con il sarin al suo interno. Questo forse è il caso che più ci fa capire quanto fosse elevato il disordine che stavano vivendo nel momento dell'attentato. La situazione era molto confusa, nessuno capiva cosa stesse succedendo. Tra l'altro, una volta raggiunta la stazione di Chebucoro, il capolinea, di norma un addetto della metro avrebbe dovuto pulire il treno, quindi accorgersi della presenza del pacco sospetto della busta di sarin e rimuoverlo. Però questo purtroppo per un suo errore non è stato fatto. E in questo treno ci sono stati un totale di circa 200 intossicati gravi. Tutti i servizi di emergenza sono stati successivamente fortemente criticati per la gestione di questa situazione. Pensate che quel 20 marzo le ambulanze hanno trasportato 688 pazienti e 278 ospedali diversi hanno avuto a che fare con un totale di 5510 vittime. E negli ospedali stessi, come avevamo anticipato, la situazione era sempre molto confusa, nessuno inquadrava bene il problema e all'inizio non sono state date le cure adeguate. In tutto questo caos spicca però una figura in particolare, il rettore della facoltà di medicina all'Università di Shinsu, il professor Yanagisawa Nobuo, il quale, vedendo la notizia alla televisione, riuscì a riconoscere i sintomi delle vittime e a collegarli all'intossicazione da sarin. E così, quella stessa mattina, facendosi aiutare da alcuni medici, fa mandare dei fax a tutti gli ospedali dei quali sentisse il nome in televisione, con scritto di trattare i pazienti con atropina solforica e due PAM come antidoto. Il suo contributo fu fondamentale nella gestione della situazione, in quanto non esisteva nessun manuale o nessun protocollo che spiegasse come gestire un'intossicazione da sarin. Fortunatamente però il professor Yanagisawa era molto informato a riguardo, questo grazie alla sua esperienza nella cura dell'intossicazione da fosfato organico, che gli permise in passato di salvare la vita ad altri pazienti intossicati dal sarin, tra l'altro sempre durante un attentato di home, questa volta a Matsumoto. Comunque, nonostante le cure, molti pazienti hanno riscontrato dei danni permanenti, come alcuni casi di paralisi, molti di disturbi post-traumatici e soprattutto problemi alla vista, che tuttora affliggono circa il 60% dei feriti. Concludiamo, infine, con la linea Hibia. Anche qua, come per la linea Marunouchi, ci sono stati due attacchi su due treni diversi che viaggiavano in direzioni opposte. Il treno B711T, partito da Nakameguro, è stato assegnato a Toyoda Toru e al suo autista Takahashi Katsuya. Anche Toyoda studiò fisica applicata, laureandosi all'Università di Tokyo col massimo dei voti. Ottenne in seguito un master e iniziò anche un dottorato, che interruppe per prendere i voti per home. All'inizio lui era titubante nel compiere un gesto simile, anche perché, avendo lavorato nel campo della chimica e per la produzione di armi leggere di home, era ben conscio di quali sarebbero stati i danni sulle persone. Tuttavia, come alla fine hanno fatto anche gli altri adepti, obbedì. E il 20 marzo, alle ore 7.59, prese il treno numero B711T, alla stazione di Nakameguro. Fra tutti i cinque attentatori sarà quello che resterà per meno tempo sul mezzo, giusto un paio di minuti. Arrivato infatti alla stazione di Ebisu, colpisce con sicurezza le sacche contenenti il sarin e scende. Tuttavia, mentre tornava al suo autista si è dimenticato di pulire l'ombrello con l'acqua dal liquido, e quindi rimase intossicato dal sarin, per colpa anche dei vestiti che erano rimasti impregnati del gas. I passeggeri cominciarono presto a sentirsi male tra le stazioni di Ropponghi e Camillaccio, fra le quali si scatenò il panico. I passeggeri provarono disperatamente ad aprire i finestrini, ma anche questo non bastava farli respirare normalmente. Arrivati a Camillaccio molti collassarono subito sul marciapiede, proprio non appena si sono aperte le porte della metro. A questo punto l'intera carrozza viene evacuata e alla fermata successiva al treno viene completamente soppresso. Qua una persona morì e ben 532 rimasero gravemente ferite. Rimane quindi l'ultimissimo attacco, quello che ha causato il maggior numero di danni. Infatti una serie di eventi hanno portato sul treno A720S un numero di morti e feriti decisamente più grande rispetto a quello degli altri treni. A questo treno sono stati assegnati infatti la cosiddetta macchina per uccidere Ayashi Yasuo e Sugimoto Shigeo che gli fece da autista. Anche Ayashi, come gli altri, aveva seguito degli studi scientifici e aveva un ruolo importante nel Ministero della Scienza e della Tecnologia di Ohm. E tra l'altro, cosa più importante, fu colui che, come abbiamo visto prima, si offrì per trasportare la terza busta di Sarin che avanzava. Ayashi prende il treno alle 7.43, alla stazione di Ueno, e una volta arrivato alla fermata di Akihabara colpisce numerose volte le tre sacche di Sarin che aveva precedentemente poggiato a terra. Scende quindi dal treno e torna dal suo autista, che lo riporta alla sede di Ohm di Shibuya. I passeggeri noterono subito le sacche a terra e sentirono l'odore che produceva il Sarin. Ecco, normalmente il Sarin è un gas inodore, però quello che è stato utilizzato per questo attentato era diluito con altre sostanze. Questo perché era stato preparato in fretta. Assunto quindi un odore che le vittime hanno descritto come agrodolce o dolciastro. Tra l'altro, se fosse stato utilizzato del Sarin puro, le conseguenze sarebbero state enormemente ancora più disastrose di quanto non siano già state. Arrivati alla stazione di Code Manchot, i passeggeri cominciano a sentirsi male e uno di loro, chiaramente inconsciamente, spinge con un piede una busta di Sarin fuori dal treno. Tuttavia questo gesto permise al Sarin di diffondersi nell'area di tutta la stazione, causando ben quattro morti. E non solo, quella stazione è stata chiusa con grave ritardo e intanto le persone continuavano a entrare e uscire, e quindi a respirare quel gas. Insomma, anche qua si crea un grande scompiglio. La gente urla, molti si sentono male, altri hanno difficoltà a vedere, e vari passeggeri finiscono per accasciarsi a terra. Arrivano anche due o tre ambulanze, ma chiaramente non bastano minimamente per trasportare l'immensa mole di feriti. E in tutto questo non arriva nemmeno la polizia, gli unici che danno una mano sono i vigili del fuoco, che trasportano le vittime con delle barelle. Il treno arriva quindi alla fermata successiva, quella di Tsukiji, dove una volta aperte le porte, i passeggeri si accasciano l'uno sopra l'altro nel marciapiede. Il convoglio viene quindi fermato, e le autorità della metro però, vedendo una sorta di fumo bianco all'interno del mezzo, deducono che ci sia stata un'esplosione. Questa falsa informazione però viene diffusa in tutte le stazioni, contribuendo a rendere ancora più confusa la situazione. Tra l'altro anche i passeggeri stessi sottovalutano quello che sta succedendo. Infatti, quando gli viene detto di evacuare subito la stazione, camminano sì a passo spedito, ma nessuno è davvero impanicato, non c'è nessuno che corre. Insomma, non si avvertiva un pericolo immediato. Comunque, alla fine, in quest'attacco morirono ben otto persone, e quelle gravemente intossicate furono 2475. I cinque autisti, che hanno trasportato gli esecutori dell'attentato, vennero condannati all'ergastolo. Hayashikuo, che aveva aiutato molto durante le indagini, portando la polizia a compiere vari arresti, ha avuto una riduzione di pena ed è stato condannato anche lui all'ergastolo. E infine, gli altri quattro attentatori, Toyoda Toru, Hirosekenichi, Yokoyama Masato e Hayashiyasu sono stati condannati a morte. Anche il leader stesso della setta, Hazara Shoko, è stato condannato a morte. Adesso, arrivati a questo punto, le strade che possiamo percorrere sono due. Possiamo limitarci banalmente a dire che sì, gli attentatori meritavano la pena di morte, odiarli per quello che hanno fatto e andare a dormire tranquilli. Ma la verità è che questo vorrebbe dire banalizzare l'accaduto, fargli perdere di significato e magari domani dimenticarcene. Possiamo invece cercare di andare un po' più a fondo, porci delle domande e cercare di analizzare la situazione da un punto di vista più critico. Perché è stato compiuto un crimine di questo tipo, apparentemente privo di senso? Cosa ha portato delle persone a compiere degli omicidi portando una finta salvezza sopra la propria morale nella gerarchia dei loro valori? Come società abbiamo sbagliato qualcosa per essere arrivati a un punto dove una setta come home è arrivata dove è arrivata? E non mi riferisco solo agli attentati. Come esseri umani è normale che molti di noi, la maggior parte, siamo portati a percorrere la prima strada. È più che comprensibile, ma a cosa ci porterà tutto questo? Che cosa possiamo imparare da questa storia se la consideriamo un folle attentato qualunque chiudere qua la questione? Il primo passo per intraprendere questa strada e cercare di capire com'è che così tante persone si sono affiliate ad home è cercare di dare un po' di contesto sul culto. Home viene fondata nel 1984 da Chizuo Matsumoto, che più avanti cambierà il suo nome in Shoko Asara. Il cambio di nome in varie religioni orientali ha un significato molto profondo, in quanto simboleggia un cambio completo della propria vita che viene devota interamente alla spiritualità. Questo nuovo nome è detto tecnicamente nome sacro, ed è molto ambito dai membri della setta. All'inizio home era soltanto un gruppo di yoga, ma col tempo ha cominciato ad assumere alcuni connotati religiosi, che prendevano spunto da delle religioni orientali e non, come il buddismo e l'hindù. In quel periodo, anche per via dell'influenza che ebbe il libro delle profezie di Nostradamus, erano molto diffuse varie idee apocalittiche di ogni tipo fra le nuove religioni, e anche home ne fece un punto forte della propria dottrina. Per loro, infatti, la fine del mondo sarebbe stata causata da una terza guerra mondiale fra Giappone e Stati Uniti, nella quale tutti i morti sarebbero stati condannati all'inferno, tranne i membri di home e le persone uccise da membri di home. Uno degli eventi che cambiò e segnò radicalmente la setta fu il passaggio dal buddismo Mahayana al buddismo Vajarayana, che si basava sulla completa dedizione degli adepti al guru, quindi in questo caso Hasahara, e sulla costante applicazione della pratica ascetica per cercare di raggiungere la salvezza nel minor tempo possibile. Oltre a questo, home introdusse il concetto di karma negativo, che veniva utilizzato per giustificare l'uso della violenza. Per liberare il proprio spirito da questo karma negativo, infatti, gli adepti dovevano partecipare a delle sorte di prove, che spesso consistevano in delle vere proprie torture, nelle quali sono anche morti molti adepti, e, come era possibile immaginare e prevedere, queste pratiche venivano spesso utilizzate per eliminare delle persone scomode della setta, per esempio presunte spie. In alcune di queste prove, alcuni adepti venivano appesi a testa in giù per molto tempo, oppure chiusi a chiave in delle celle riscaldate, che durante l'estate erano un vero e proprio inferno, grandi quanto appena un tatami, che è circa 90 cm x 180 cm, nelle quali avrebbero dovuto bere un particolare liquido che, secondo gli maestri, gli avrebbe fatti sudare in modo da far uscire fuori dal proprio corpo il karma negativo. Tra l'altro non avevano nemmeno accesso ai bagni, quindi dovevano fare tutto in quel buco, e spesso gli venivano date con qualche scusa delle droghe, con lo scopo reale di studiarne gli effetti, insomma venivano utilizzati come delle vere e proprie cavi. Tra l'altro, a proposito di droghe, un'altra delle prove ad home era la cosiddetta iniziazione di Cristo, che consisteva nell'assunzione di LSD, all'insaputa degli adepti stessi a cui non veniva detto cosa gli stavano dando, e nell'effettuare dieci immersioni in acqua bollente, che sono state in seguito ridotte a tre visto il grande numero di morti che questa prova causava. Ah, ovviamente tutti questi lati oscuri della setta non venivano fatti vedere a chi si stava avvicinando ad home, ma soltanto a chi era ormai già dentro la setta, e che quindi non ne sarebbe potuto uscire facilmente. Una volta affiliatisi ad home, infatti, gli adepti dovevano lasciare tutti i loro averi e andare a vivere in uno dei centri della setta, dove le uniche persone con cui avrebbero interagito erano altri membri di home. In questo modo non avrebbero potuto avere nessuna influenza che andasse contro la religione e le sue pratiche, insomma vivevano in una sorta di bolla. Home, all'esterno, si mostrava come un culto pacifico, che aiutava le persone a raggiungere la salvezza e soprattutto a liberarle dall'oppressione della società, che in passato aveva causato traumi di abbandono o di rifiuto a molti dei suoi potenziali membri. Una cosa che infatti accumulava tutti i membri di home è un forte disagio nell'inserirsi nella società moderna, motivo per il quale trovavano in questa religione una soluzione al problema. Lo stesso fondatore, Asahara, fondò home dopo aver vissuto durante la sua infanzia e nel periodo universitario vari traumi di questo tipo. Queste persone sono spesso anche facilmente manipolabili, per via della loro difficoltà a prendersi la responsabilità delle proprie azioni. È infatti proprio questa loro caratteristica portarli a fidarsi ciecamente degli ordini di Asahara e degli altri maestri di home. Infatti piuttosto che dover affrontare questa responsabilità, trovavano più facile fare quello che gli veniva ordinato, illudendosi che ogni ordine, anche il più difficile da comprendere, fosse un passo necessario per avvicinarsi sempre di più alla salvezza. A questo aggiungiamo il fatto che per molti, una volta entrati nella setta, sarebbe risultato molto difficile uscirne, vista appunto questa grave difficoltà che si creava nel cercare di reinserirsi nella società. E così molti decidono di prendere i voti, con lo sconforto dei loro familiari, in quanto infatti oltre ai loro averi avrebbero dovuto lasciare tutti i loro affetti. Home funzionava come una vera e propria società indipendente, ognuno aveva un proprio lavoro da compiere, tant'è che costruivano loro stessi gli edifici che utilizzavano. C'era chi si occupava di questo, chi si occupava dei pasti, e c'era persino una divisione in ministeri. La suddivisione e la gestione dei lavori era però pessima, così come la loro coordinazione. Infatti era un sistema altamente inefficiente. Man mano che si praticava l'ascetismo e si lavorava seguendo gli ordini, gli adepti salivano di grado, avvicinandosi sempre di più all'illuminazione e ai ruoli elitari nella setta come quello di maestro. Fra i vari lavori all'interno della setta c'era chi si occupava della propaganda. Venivano infatti stampati dei volantini, dato che Home voleva inserirsi anche nel mondo della politica giapponese, anche se ottennero scarsissimi risultati, e c'era chi realizzava dei cartoni animati con lo scopo di glorificare il guru Asahara, e ovviamente chi lavorava per la produzione di armi leggere, armi chimiche, semiautomatiche, eccetera, come il Sarin appunto. Tra l'altro, come abbiamo accennato prima, queste armi sono state utilizzate già prima dell'attentato al Sarin alla metro di Tokyo, per esempio nell'attentato a Matsumoto nel 1994. Infatti Asahara aveva organizzato questo attentato con lo scopo di uccidere dei giudici che si dovevano occupare di un processo che convolgeva Home per quanto riguarda delle terre che venivano contese. Insomma, lo scopo era di rallentare il tutto. E per lo scopo fu costruito un camion apposito, modificato in modo da poter spargere nell'aria circa 30 litri di Sarin. In quest'attacco morirono ben 8 persone e ci furono 500 feriti. I giudici non morirono, però rimasero gravemente feriti, il che fece rallentare il processo, risultando quindi in una vittoria per la setta, visto che rallentare il processo era l'obiettivo principale di Asahara. Arrivati a questo punto, però non siamo ancora in grado di comprendere bene come sia possibile che sia avvenuto un attentato di questo tipo. È chiaro che fra Asahara e Discepoli ci sia stato un forte distacco, ma i 5 attentatori sono arrivati addirittura a compiere delle azioni violente pur di seguire i suoi ordini. All'inizio la situazione venne banalizzata, dando tutta la colpa ad Asahara e dicendo che gli attentatori avevano subito una sorta di lavaggio del cervello. Il che senz'altro è vero in parte, ma stiamo ancora analizzando la superficie. Abbiamo visto come dall'esterno home potesse sembrare un culto positivo, quindi siamo in grado di comprendere come mai certe persone hanno deciso di affiliarsi. Ma perché hanno deciso di rimanere anche dopo che si sono integrati nel gruppo? Secondo il dottor Watanabe Manabu i motivi erano due. Il primo è che la maggior parte degli adepti non aveva idea di cosa succedesse ai piani alti, ed erano quindi all'oscuro di tutte le attività illegali. Il secondo motivo è che molti di quelli che hanno iniziato ad accorgersi di cosa stesse diventando home non potevano comunque lasciare la setta, sia perché non sarebbero stati in grado di reinserirsi nella società, sia perché erano costretti dai superiori. Infatti coloro che tentarono la fuga sono stati spesso imprigionati e torturati quando scoperti. Fatto sta che ascoltando le testimonianze degli stessi ex membri del culto, è chiaro come queste persone vivevano la religione come una sorta di bolla sicura che li proteggeva dal mondo esterno, nella quale si chiudevano ignorando le conseguenze concrete che le loro azioni causavano, interessandosi soltanto alla loro personale crescita spirituale. Tirando le somme, tutto quello che ci resta è una serie di riflessioni, che, così come le condanne a morte ai vari attentatori, non potranno mai rimarginare le ferite fisiche ed emotive che hanno subito le vittime, i loro parenti e la società giapponese. Assieme a un grande e importante interrogativo su cosa possiamo fare noi, come società, per impedire che eventi del genere accadano di nuovo in futuro. E con questo è tutto, ce l'abbiamo fatta, è stato un progetto abbastanza difficile da portare a termine, c'è un copione bello bello denso, bello bello lungo. Vi ringrazio per essere arrivati fin qua, se vi è piaciuto questo documentario invito ovviamente a lasciare un mi piace per supportare il mio lavoro e commentate facendomi sapere cosa ne pensate della ricenda, se la conoscevate, perché molti non la conoscevano, o se avete riflessioni a riguardo, tanto c'è moltissimo, moltissimo da dire. Se volete approfondire magari vi lascio in descrizione un paio di fonti e vi consiglio un libro, che è il libro con il quale mi sono avvicinato a questa vicenda, che è Underground di Murakami, dove l'edizione italiana raggruppa due libri, uno è Underground e uno è Underground 2 nel luogo promesso, una roba del genere, che contiene una descrizione breve dei vari attentati e una serie di interviste sia alle vittime dell'attentato che agli ex membri del culto di Home. È davvero molto interessante, ma è anche molto pesante, quindi vi deve interessare davvero tanto l'argomento per andarvelo a leggere. E niente, con questo è tutto, grazie ancora per essere arrivati fin qui, ci vediamo al prossimo video.